Dopo il punto che va giù all'Urtiga due una volta che erano qua i pra cui sopevo che era la Rita fai pasculare un bel dì che vado un gattin senza mamma e senza papà e la Rita le ciappa in brascia e le fa balare e il gattin puggia in su una teta e il setacca e il vado a sciusciare ma la Rita la disnagotta e le lascia fare un barbun che il passava in bici e il se ferma e sta lì a guardare e il diadrele s'aveva in tutti fino a giù all'ambra quando la Rita ha convert la camisa la chiedava al gattin e al solat tutti gli uomini in giro dell'Urtiga e siccome che lei la credeva che era lì per vedere un maltato gli guardava e la che si rideva e la cantava la 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 cantava la 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 e il barista è rappresentante e il maestro col cervellè erano lì insieme a qua terghese con te l'arід e il bustin che le vien che il trotta per guardare il consegnava più non chi è prestato ormai nessun gli avari alle giù e il sacrista Dio me ne scampi, l'era lì con i cereghetti se capisci anche a sti fio che piaceva i tetti a vedere che era anche la pula, ma stavolta senza randello a che nera vien che il piangeva se l'era bello quando la Rita ha convertito la camisa, la che dava al gattino e il solato tutti gli uomini in giro dell'urtiga erano la 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 la, erano la 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 e siccome che lei la credeva, che erano lì per vedere un gatto gli evardava e la che su rideva e la cantava la 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 cantava la 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 a un bel momento i don dell'urtiga si intrua senza neanche un uom e han pensato di fare un bel corteo in piazza del don e poi se in fu l'armada prima han tirato sui tre 100 randei e in partì per far fare il gatto e l'han fatto ok l'està in sci che la pastorella le è restata senza il sogato e il mese dopo la si è sposata per consulare e così l'è finita in gloria, quando tutt'em le passaggia mò che è un quai vecchio che però sta storia l'ha chiamato quando la Rita ha convertito la camisa la che dava al gattino e il solato tutti gli uomini in giro dell'urtiga e erano la 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 e siccome che lei la credeva che erano lì per vedere un gatto gli evardava e la che su rideva e la cantava la 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 cantava la 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 Grazie a tutti.